Il destino tesse trame intricate di verità celate e rivelazioni sorprendenti. Su questi intrecci si fondano le prossime, avvincenti puntate di Endless Love. Tufan, il giovane dal cuore coraggioso, avrà finalmente l'opportunità unica di riabbracciare sua madre dopo anni di separazione e sofferenza. Questo incontro, carico di emozione e speranza, solleverà il velo su anni di mistero e dolore, aprendo nuovi capitoli nella sua vita. Nel frattempo, Kemal, determinato a scoprire la verità, compie un passo epico nel suo viaggio nel passato familiare. Grazie alla testimonianza cruciale della signora Norsen, una domestica che conosce a fondo i segreti del passato, si apriranno nuovi sentieri di conoscenza, illuminando finalmente i misteri rimasti celati per troppo tempo. Il momento clou arriva quando Kemal rivela a Tufan una scoperta che cambierà per sempre il corso della sua vita. La scena dell'incontro tra madre e figlio, separati dal tempo e dal destino, promette di essere un momento di pura magia e commozione, destinato a toccare il cuore di tutti. Ma il destino ha ancora molte sorprese in serbo. Con legami inaspettati e segreti profondi che emergono dall'ombra, Tufan scoprirà che tutto ciò che credeva di sapere sulla sua vita e sulla sua famiglia potrebbe essere molto diverso dalla realtà. La verità sconvolgente che emerge tra le pieghe della trama è che Tufan è cresciuto nell'oscurità riguardo all'identità dei suoi veri genitori, abbracciando un'infanzia segnata dall'amore del signor Hakki e di Yasu, senza conoscere i suoi veri legami familiari. Con destini intrecciati e rivelazioni sorprendenti, Endless Love continua a essere una trama avvincente che tiene gli spettatori con il fiato sospeso, ansiosi di scoprire quali altre sorprese il destino ha in serbo per i suoi protagonisti. Quali altre verità sconvolgenti emergeranno? Iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Alla prossima!